Giovane, frizzante e combattiva, spregiudicata. Queste le caratteristiche della Pro Cycling Team Fanini, la nuova formazione del General Manager Manuel Fanini che si appresta ad iniziare la stagione 2020. Ho visto ragazze molto motivate, ha sottolineato lo stesso Manuel Fanini, convinte di poter fare una buona annata. In effetti l'obiettivo è quello di dare battaglia in ogni corso e su ogni tipo di percorso. Le atlete sono tutte giovani e addirittura giovanissime per cui ci sarà bisogno di tempo per vederle al top. Intanto è terminato il secondo raduno invernale che si è svolto tra Lucchesi e Versilia agli ordini del nuovo direttore sportivo Mirko Puglioli, imminente il terzo collegiale. Le ragazze stanno rispondendo bene alle sollecitazioni e i risultati, sia pur limitati all'allenamento, si cominciano a vedere. Attenzione semmai a dosare le forze, sia fisiche che soprattutto mentali, in un gruppo dall'età media così bassa, poco sopra i 19 anni, anche perché molte sono alla loro prima esperienza con le grandi. La Pro Cycling Team Fanini farà il suo esordio stagionale all'inizio di marzo, con la gara di Montignoso in provincia di Massa. Nella prima parte dell'anno è prevista la partecipazione a corse che si svolgono in Italia, anche per tastare il terreno. Poi il programma prevede blizze europee in Francia, Svizzera e Slovenia. Al momento l'organico della squadra è composto da Stefania Belloni, Leonora Geppi, l'unica riconfermata, Francesca Balducci, Giulia Luciani, Beatrice Pozzobon, Ilenia Fiscarelli e Giulia Bertoni. Possibili però altri innesti stranieri a stagione in corso.